BELLA GIORNATA, VERO? Sì, è proprio magnifica! È bella! Non puoi neanche immaginare quanta gioia mi hai dato fissandomi quest'appuntamento. E signor Coribayashi, venga più vicino. Oh, sì, va bene, cara. Senti, Lamu, ti fa davvero piacere stare con me? Oh, può scommetterci, gliel'assicuro. Sul serio? Questo mi dà la gioia di vivere. Questo mi ridà il vigore della gioventù. Sono proprio felice e contenta. Lamu, andiamo a giocare. Su, andiamo a giocare. Ok, ok. Lamu, davvero non ti vergogni di uscire con me? Perché dovrei? Non sarebbe meglio se frequentassi qualcuno più giovane di me. Affatto, gli uomini di mezza età sono affascinanti. La pensi proprio così? Certo, ti posso dare del tutto. Sei un uomo calmo e tranquillo. Hai anche molta tolleranza. Allora mi vuoi un po' di bene? Sì, certamente. Oh, santi numi. Che gioia. Mi viene da piangere. Lamu mi ama. Ora dammi la buonanotte con un bacetto qui. Un bacetto. Ti abbiamo visto! Ti abbiamo visto! Ti abbiamo visto! Ti abbiamo visto! Povero me, in che situazione ridicola mi sono messo! Ti abbiamo visto! Toglio tanto bene!